Un dormitorio nascosto sotto il centro massaggi. La polizia municipale di Porcari ha posto sotto sequestro un seminterrato di circa 220 metri quadrati, sottostante il centro massaggi cinese Discipline del Benessere, al centro commerciale in località Guerrina. Lo spazio era usato abusivamente come abitazione da alcuni dipendenti del centro. I controlli erano scattati dopo che i residenti nella zona avevano sentito odore di cibi cucinati provenire dalle grate sottostanti l'edificio. La polizia ha scoperto che il titolare aveva nascosto la porta di ingresso al seminterrato con un armadio. Sotto lo spazio era stato organizzato come un'abitazione clandestina, con due camere, una cucina e altri locali. Il tutto ovviamente senza i requisiti di abitabilità e senza il minimo rispetto delle norme di sicurezza. La municipale, su un mandato della procura, ha quindi proceduto al sequestro del seminterrato. Denunciato il titolare del centro massaggi. Il centro rimane comunque aperto e in attività. Era stato chiuso lo scorso giugno, ma poi il titolare si era messo in regola.